A me piacciono, io sono sempre contenta quando vinco dei premi, soprattutto per le persone a cui voglio bene, i miei cari, che sono quasi più contenti di me. Il mio preferito è Dogme. Che sia un film sincero, tutto qua, che è un film che non ha bisogno di spiegazioni, si spiega da solo. C'è da imparare da tutti, anche gli italiani hanno da imparare dagli americani, gli americani hanno da imparare dagli italiani. Sono due modi magari che possono coesistere.